E allora buonasera a tutti di nuovo qui al Jam Sport, siamo in panca con Scarselle e Max Ottonetto Allora come sta andando il capitano? Beh diciamo come prima partita non c'è male, soprattutto che è all'esordio in mezzo al campo dopo una vita da portiere, poi vicino a Max è un'emozione Bene, eccolo qui Max sta recuperando, allora che prevedi per il secondo tempo? Guarda, l'abbiamo provato prima da portiere, dopo da attaccante adesso abbiamo trovato il suo ruolo Qua sta benissimo, grande la panca Quindi ci andiamo a gustare il secondo tempo, un grazie a voi la linea, grazie Grazie a te, ciao